bentornati a tutti su gaming galaxy il vostro portale di intrattenimento per news build guide e live dei vostri giochi preferiti come sempre oramai è tipo un mantra iscrivetevi al canale se per caso non lo siete e ricordatevi di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono sul canale oggi parliamo di godfall prometto subito che queste informazioni sono state tradotte da me dai video e interviste mostrate non c'è nulla di scritte quindi se sbaglio qualcosa o mi dimentico qualcosa abbiate pazienza non è stata una cosa semplice tirare fuori questo video quindi iniziamo comunque subito nel dire che grazie al pax online ci sono stati mostrati alcuni aspetti che fino a poco fa non si conoscevano innanzitutto è stato mostrato il regno dell'acqua decisamente ispirate con colori brillanti e in più in questo regno è stato mostrato il combat system di questo titolo che tutti stiamo aspettando o meglio alcuni dettagli importanti del combat system credevo che questo gioco fosse molto più semplice di quello che è in realtà e quindi ne sono molto felice partiamo quindi dal fatto che i nostri nemici tutti quanti hanno dei punti deboli che se colpiti provocano critico e quindi molto più danni e infatti ci spiega che dovremmo essere noi a capire quale sia il punto debole e a mettere in condizione di subire un attacco in quel punto il nemico che abbiamo di fronte inoltre ci spiega sempre in non tutti i nemici saranno a pelle scoperta ma avranno anche potenti armature che dovranno essere infrante per arrivare poi al punto debole del nemico stesso questo può avvenire stordendo i nemici colpendoli in determinate maniere o con mosse debilitanti ma comunque i punti deboli non saranno messi in mostra con grafiche o illuminazioni diverse e dovremmo sempre essere noi ad imparare a capire quando colpirli e soprattutto dove sono questi punti un dettaglio utile che ci viene in soccorso contro i nemici in armatura pesante sarà una barra di violazione che si riempirà ogni volta che compieremo il nemico una volta riempita questa barra il nemico si stordirà scoprendo proprio il punto debole ci vengono svelati inoltre altri due sistemi durante questo combattimento del combat system chiamatelo come volete e riguardano il soul shutter e ovviamente anche il soul shutter con l'arma secondaria il soul shutter funziona più o meno come la barra di violazione che ho spiegato prima il giocatore attacca un nemico caricando una barra di potenza per poi rilasciare questa potenza colpendo direttamente l'anima del nemico uccidendolo rompendo quindi il tessuto spirituale che lo lega al suo corpo l'altra tattica invece sempre riguardante il soul shutter consiste nell'estrarre l'arma secondaria creando un'esplosione aoe non dimentichiamoci inoltre dello scudo che in ricorda essere non solo un oggetto di difesa ma anche uno di attacco e di sovverchiamento del nemico ultimo e non ultimo e ricorda anche che esiste una modalità archon che consiste nel caricare e poi scatenare una potenza assurda su una delle numerose potente mosse speciali che ogni valor plate possiede questo avviene nel caso in cui si combattono e sconfiggono numerosi avversari che dire quindi tra armi pesanti leggera distanza scudi e mosse speciali si aggiungono anche parti deboli e mosse contro l'anima dei nostri avversari sembra proprio che gearbox stia facendo le cose alla grande o in grande creando e portando al giocatore un'ampia scelta per poter veramente scegliere il proprio stile ora la vera domanda che in realtà rimane sospeso è i nemici saranno così facili come sembrano i video mostrati o avranno un'IA molto più sviluppata voi cosa ne pensate fatemi sapere nei commenti qua sotto al video e noi ovviamente ci rivediamo alla prossima live o al prossimo video dedicato a uno dei vostri giochi preferiti gg a tutti quanti